Un amore malato che si trasforma in follia e ossessione e diventa dramma. Una vita spezzata da una serie di colpi di coltello. Nunzia Castellano aveva 31 anni, viveva a Napoli. Dopo cinque anni della sua storia con Luca Carafa aveva chiuso la relazione. Ma l'ex fidanzato non si rassegnava e per questo l'ha uccisa. Oggi è un giorno di dolore per la nostra famiglia. Purtroppo dieci anni fa, esattamente dieci anni fa, la nostra vita si è spenta. Si è spenta perché una persona ha deciso che Nunzia non doveva più vivere. Questo è un giorno di dolore, come dicevo, ma è anche un giorno di speranza. È un giorno di speranza rivolto ai giovani, rivolto a quelle donne che oggi devono sentirsi sicure di poter denunciare, di potersi sentire tutelate anche dalle istituzioni perché oggi loro non sono più sole. Ecco, anche attraverso la nostra associazione con Nunzia, perché a me piace sempre dire che è Nunzia che ci aiuta in questo, le donne non sono sole. Sono passati esattamente dieci anni da quella drammatica serata e nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo, l'amministrazione ha voluto ricordare la giovane Nunzia con un momento di riflessione sul tema della violenza contro le donne, alla presenza dei familiari, delle istituzioni e della rete delle associazioni che si occupano di queste tematiche. La donna deve essere accompagnata a partire dal nucleo familiare a quello lavorativo e la violenza poi deve trovare anche una prospettiva generazionale. Cosa serve oggi alle ragazze di 15, 16, 20 anni? Ci sono tematiche come la storia di Roma che chiamano quindi un attivarsi rispetto ai modelli comportamentali, rispetto ai valori, rispetto alla cura del proprio corpo, dinamiche come il sesso. Vogliamo portare questi argomenti sempre più in modo scientifico nella città. C'è poi qui il gruppo che ha portato avanti per la FIX il progetto DAFNE, tutto il materiale illustrativo che su questo tavolo verrà consegnato alle associazioni che sul territorio. DAFNE, Maddalena, le Cassandre e Dream Team lavorano in tre diversi quartieri proprio perché è importante fornire gli strumenti scientifici anche per operare sempre di più ma soprattutto meglio. Durante l'incontro l'attrice napoletana Rosaria De Cicco ha letto un capitolo del libro Fiore come me della giornalista napoletana Giuliana Covella dedicato al ricordo di Nunzia. Ed ora è silenzio. Sono sola, distesa in una pozza di sangue. Solo un mese prima gli avevo scritto una lettera. Lasciami vivere. Prova a essere spinto a terra dalla Vespa, a essere trascinato per i capelli per strada e sulle scale di casa fino al terzo piano, ad avere un morso sul naso mentre ti tappano la bocca fino a non farti respirare e vedere la morte. 31 anni, capelli castani, lunghi e mossi, occhi blu. È così che i miei nipoti vedono la loro zia. La mia immagine è ovunque in ufficio. Ognuno l'ha messa come sfondo sul desktop del proprio pc. Mamma, ma dov'è zia? Quando viene? Ci manca. Hanno tre e sei anni i miei nipoti. È fuori. Con i bimbi poveri che non hanno né mamma né papà. Eh, mica può lasciarli soli, no? Rosalia gli risponde così ai suoi figli, a cui mostra la mia testa era unice, mentre i miei occhi blu sorridono lassù, da qualche parte, ai miei adorati bambini poveri.